Felice. Mamma. Ma com'è che parla così? Ho vissuto 40 anni all'estero. Ma io ci sono tantissime cose che non mi ricordo. Che faccio di cambiare? Agite! Tu ti ricordi di uno che stava sempre con me? Ora stai spaziano. Il suo clan è il peggiore della sanità. Io lo voglio incontrare. Lo sai che è il mio primo nemico? Non dobbiamo soffocare gli incendi sociali! Lui l'ha mappicciato! Io ti volevo dire che sono tornato. Sei tornato a combinare i guai. Felice, ma chi è poteva essere spaziato? Mi sono passato 40 anni. Mi è passato. Io ho passato una esiste. Io non l'ho tradito. Io sono nato qua. E qua voglio morire. Parti. Torna dal mio paese. Chi è questo paese mio?